Ciao a tutti amici di Kimia Revo, siamo lo Stan Sony, stiamo vedendo in questo caso la A7R Mark II per gli italiani A7R Mark II. La particolarità è che il refresh della nuova fotocamera mirrorless precisamente una full frame mirrorless di Sony, tra le migliori al mondo in assoluto questa qua è la prima mirrorless di Sony a fare video 4K, tutto all'interno del corpo macchina senza avere registrazioni esterne oppure altri aggeggi da aggiungere. La particolarità soprattutto è il sensore infatti stiamo parlando di un full frame da 42.4 megapixel, backstage illuminated, quindi con retroilluminazione del sensore che lo rende estremamente ottimo al buio, ma soprattutto ben 399 punti di fuoco, ibrido, quindi sia contrasto e sia di fase veramente veramente veloce e tra i più veloci al mondo. Assieme a questo abbiamo sempre la stabilizzazione di Sony famosa, 5 assi, direttamente sul sensore, quindi ottimo per i video e renderà tutte le vostre foto e video estremamente fluidi senza nessun problema. Sicuramente una fotocamera molto importante, altra particolarità è sicuramente il mirino ottico con l'ingrandimento migliore al mondo, 0.78x che detiene adesso un record e supera addirittura le reflex più importanti al mondo. Che dire quindi una macchina fotografica sicuramente di altissimo livello e la migliore mirrorless al mondo. Per ora è tutto e giriamo ancora le buzzoni. A dopo, ciao ciao!